Per questa ricetta di maialino in porchetta al forno a legna, avrai bisogno di finocchietto selvatico, aglio, olio, sale e pepe. Inizia massaggiando il maialino con un mix di olio d'oliva, sale e pepe, assicurandoti di coprire tutta la superficie. Inserisci spicchi d'aglio e rametti di finocchietto selvatico all'interno e sulla superficie esterna della carne. Questa combinazione di aromi darà un sapore inconfondibile alla porchetta. Accendi il forno a legna e portalo a una temperatura costante, ideale per una cottura lenta e uniforme. Quando il forno è pronto, posiziona la carne su una teglia o direttamente sulla griglia del forno. Lascia cuocere lentamente, monitorando di tanto in tanto. La carne è pronta quando la pelle è croccante e l'interno tenero. Ricorda, cuocere al forno a legna richiede pazienza, ma il risultato sarà un maialino in porchetta succulento e ricco di sapore. Buona preparazione!